Sono felice di aver letto Ci ritrovammo tutti a Big Sur Scalzi e Senza Vita a scrivere sul Rumore del Paradiso, una piccola plaquette in 99 copie numerate uscita per i quaderni del Bardo di Maurizio Leo di Copertino come supplemento alla rivista Il Bardo Fogli di Culture pubblicata dalla stessa casa editrice. La prefazione di Alessandro Laporta che ci dà un ampio spaccato su quella che è la visione poetica di Maurizio Leo finisce con una frase shock ovvero Jack Kerouac e Maurizio Leo. E non sbaglia perché Maurizio Leo in tutta la sua strada poetica, tutta la sua strada di creatività perversi ha assorbito in maniera totale tutto quel genoma di prospettiva poetica di Gisberg, Barrocks, Kerouac, Gregory Corso e nel fatto un distillato veramente incredibile. Lavoro di chi vale la pena leggere, di leggere le sue poesie e lasciamo nell'info box di questo video la mail per contattarlo.